Ti è capitato di trovarti di fronte a delle sfide, a delle difficoltà da superare? Sì, è così, esattamente. Ad esempio? Sei nella merda? Ma no! Lo sapevo che eri un disastro. Prendi il tuo... Dai, noi pazzi! Cercate del personale? Sta parlando di un posto fisso? Non esattamente, no. Ma è un lavoro interessante, perché non voglio impegnarmi in qualcosa che poi... Indovini chi sono? Sono Amy Whitehouse. Hai esperienza con i bambini? Io adoro i bambini. Hai fumato? No, non ho fumato. Perché lo chiedi? Ah, non qui! È un gatto lì dentro? È pieno. Li faccio ingrassare e poi... li cucino. Per mangiarmeli con le mele, come sanguinaccio. Sai che cosa mi ricordo? Una scimmietta selvaggia. Stai lavorando o stai studiando? Perché non lo so più. Ci siamo, a vento! È giovane, piena di energia. È la cosa importante. A volte ho nostalgia. Nostalgia di cosa? Delle cose che non ho fatto. Di注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注